Era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, mentre portava via reliquie, rosari, crocifissi ed altri piccoli oggetti di antiquariato, ma di gran valore, insomma tutto ciò che riusciva a mettere in tasca senza dare troppo nell'occhio. Adesso sono scattate le manette per il ladro seriale della Casa Museo Ivan Bruschi, nel cuore della città di Arezzo. L'uomo, un 64enne romano, è infatti ritenuto l'autore di ben tre furti all'interno dell'edificio, messi a segno negli ultimi tre anni, sempre in occasione della fiera antiquaria. Il malvivente infatti durante l'orario di apertura si introduceva nel museo come un normale visitatore e una volta lontano da occhi indiscreti forzava le teche e portava via i piccoli manufatti di antiquariato. Il tutto in pochi attimi. I dipendenti del museo infatti si accorgevano dei furti solamente dopo alcune ore, quando del ladro non c'era ormai più traccia. Dopo mesi di indagini, iniziate a seguito della denuncia presentata dagli stessi dipendenti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo, anche grazie alle immagini di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l'uomo. Il 64enne adesso si trova ai domiciliari a Roma dove vive. Dovrà rispondere di furto aggravato.